5 sono i vantaggi che mi hanno spinto l'acquisto di questo preziosissimo svettatoio fiscas upx 86 partiamo subito con il primo vantaggio la lunghezza questo svettatoio è lungo 2 metri e 40 esteso completamente arriva fino a 4 metri guardate qui vado indietro ecco adesso sono a 4 metri guardate alzandolo tutto riesco ad arrivare ad un'altezza di circa 6 metri prima usavo questo svettatoio della lidl pagato 30 euro è telescopico alla massima estensione è lungo 250 10 centimetri in più di questo quando è tutto retratto per cui avevo bisogno della scaletta dovevo rampicarmi tagliare i rami più alti scendere e guardare la sagoma della pianta con questo invece riesco a fare tutto da terra mi permette di stare lontano dalla pianta di guardare bene la sagoma e di lavorare tranquillamente il tutto si traduce in un notevole risparmio in termini di tempo e soprattutto fatica vi assicuro che per portare la maniola alle mie spalle impiegavo dalle 5 alle 6 ora ora grazie a questo svettatoio standomene comodamente a terra sono riuscito a portare a termine il lavoro in un'ora altro vantaggio rinunciabile per me è la leggerezza questo svettatoio pesa solamente un chilo e 9 leggero non significa debole la parte estensibile è in alluminio mentre il corpo principale è in materiale composito non ben definito credo che sia una lega dell'alluminio anche questo anche alla massima estensione ci consente dei movimenti veramente precisi perché avendo poca inerzia si riesce ad essere veramente precisi ed efficaci nell'agganciare i rami e tagliarli e soprattutto anche dopo diverse ore di lavoro non vi affaticate le braccia al contrario di quello che mi succede quando uso questo che è un ottimo attrezzo sempre sempre acquistato alla lidl però è molto pesante soprattutto quando dovete utilizzarlo lavorando in alto vi assicuro che le braccia vanno a pezzi dopo qualche ora il terzo vantaggio di questo svettatoio consiste nel sistema di azionamento delle cesoie che a differenza dello svettatoio tradizionale che richiede l'uso di una mano per impugnare l'asta e dell'altra mano per tirar la fune che aziona il meccanismo delle cesoie questo sistema funziona per trazione grazie a questa manopola coassiale che scorre sull'asta e aziona la cesoia permette di impugnare l'asta sempre con due mani e di lavorare tra l'altro il sistema è veramente funzionale ed efficiente sono rimasto veramente sbalordito dalla praticità d'uso inoltre non è presente la fune esterna che si impiglia sempre nei rami e rallenta tantissimo il lavoro qui abbiamo questa fettuccina che scorre in asse con l'asta quando lavoriamo con lo svettatoio completamente in alto abbiamo la possibilità di azionare le cesoie tramite questo pomello purtroppo non dobbiamo tenere la mano in questa posizione perché guardate cosa succede viene bloccata la corsa per cui è opportuno magari agganciare il ramo in alto tirare e poi riprendere questo così non è comodissimo però in caso di necessità ritorna utile il quarto vantaggio sta nella cesoia che grazie a un meccanismo di blocco e sblocco rotante permette alla testa di muoversi e di ruotare di ben 230 gradi a differenza degli svettatoi tradizionali che hanno la testa fissa questo rappresentava un grosso svantaggio perché quando dovevo agganciare i rami orizzontali non c'era problema ma se dovevo andare in alto e ad agganciare un ramo verticale li cominciavano i guai e mi faceva veramente tribolare inoltre questo sistema di leveraggi vedete si impigliava sempre nei rami e mi bloccava le cesoie non mi non mi permetteva di tagliare il ramo in più si agganciava non riuscivo a spostarlo era veramente poco poco efficiente questo è straordinario è molto compatto e molto molto potente amplifica la forza della trazione e mi permette di tagliare veramente rami fino a 32 36 mm le cesoie tra l'altro sono faccio vedere sono di ottima qualità sono veramente taglienti sono dei coltelli bisogna stare attento di fatti anche quando lo vendono lo vendono protetto da una confezione di plastica perché sono veramente taglienti è un ottimo metallo a differenza di quelli che dopo un po di rami non tagliava più quinto vantaggio ma non ultimo per importanza è la qualità costruttiva generale e ci mancherebbe con quello che costa devo dire che è un ottimo attrezzo la qualità si percepisce subito dal dall'alluminio delle aste che è veramente leggero ma rigido anche il profilo anche il profilo consente questa rigidità alla qualità della cesoia veramente veramente tagliente un ottimo acciaio alle plastiche che non sono plastiche economiche sono di buona fattura insomma un buon utensile costa caro ma secondo me vale quello che costa inoltre sono disponibili su amazon tutti i pezzi di ricambio dalla fune che prima o poi potrebbe rompersi alle cesoie che potrebbero consumarsi insomma abbiamo la possibilità con una spesa non eccessiva di avere sempre l'utensile in ottima efficienza a chi è rivolto alla fine se avete piante sotto i 6 metri piante alte 4 metri potrebbe essere un'opzione un po costosa diciamo che con questo qui tribolate un po ma ve la cavate ancora con piante come la mia che è bella alta questo è assolutamente indispensabile mi sono pentito di non averlo comperato parecchi anni fa sinceramente il costo mi ha frenato per un po di tempo adesso anche con l'avanzare dell'età non me la sento più di fare certi sforzi certe fatiche per cui questo mi ha cambiato veramente il modo di potare la pianta anche se lo uso solo una volta all'anno però quella volta faccio il lavoro fatto bene e rapidamente adesso se il video ti è piaciuto l'hai trovato interessante metti pure un bel mi piace e condividilo magari con qualche amico su whatsapp noi ci vediamo alla prossima ciao da marco grazie a tutti